Un valore aggiunto e un segnale forte dato ai commercianti per sostenerli in questo periodo di difficoltà e desertificazione. Con queste parole la Presidente di Confcommercio di Fano, Barbara Marcolini, ha presentato gli obiettivi dell'Associazione dopo il taglio del nastro della nuova sede avvenuto martedì scorso nel centro storico, in via San Francesco, di fronte al municipio. I locali più ampi e più funzionali sono pronti ad accogliere gli imprenditori, gli associati e i fanesi, circa 580, per lavorare insieme a loro, fare squadra e potenziare i servizi che vengono offerti alle imprese che operano nel commercio, turismo, trasporti e artigianato. Dopo il taglio del nastro e la benedizione del Vescovo Armando Trasarti, il direttivo ha illustrato la missione e i vari progetti in cantiere, tra questi gli itinerari dei luoghi della fede e un nuovo format per premiare coloro che, in controtendenza, avranno il coraggio di aprire una nuova attività. Vogliamo una città dinamica e vitale. In questo momento, dove vediamo persone che continuano ad acquistare online, dove non c'è più un rapporto con le persone, e il rapporto tra il commerciante e il cliente, noi è proprio questo che vogliamo recuperare. Noi vogliamo veramente stare vicino a tutti gli imprenditori che ogni giorno alzano la serranda, si danno da fare e stanno sul campo, facendo e mettendo in campo tutte le competenze, le collaborazioni con le amministrazioni, con le banche, con altri imprenditori, con le professionalità varie, perché soltanto collaborando e mettendosi insieme è il momento in cui si può dare veramente una svolta. La nuova sede rientra nel piano di sviluppo fortemente voluto da Merigo Varotti. Il direttore generale di Confcommercio ha annunciato che nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del segretario locale che prenderà il posto di Francesco Mezzottero. La precedente sede è stata inaugurata il primo ottobre del 1995, quando io il primo maggio del 1995 ho assunto la direzione generale della Confcommercio e già allora ipotizzammo un percorso di apertura di sedi sul territorio che poi si è perfezionato nel corso degli ultimi anni, anche con la presidenza Serra, perché l'obiettivo è quello di stare vicino alle imprese. La nuova sede viene anche a seguito di un percorso di rinnovamento del gruppo dirigente oggi sempre più impegnato in un confronto serato con l'amministrazione comunale. La festa è proseguita al Teatro della Fortuna con il concerto di Anima Libera attributo a Mogol Battisti.